avete rotto le palle avete rotto le palle 3 a 0 l'udinese in casa 3 a 0 l'udinese in casa no 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 non è veramente possibile fate pena fate pena fate pena 3 a 0 no 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 non ce la posso fare non ce la posso fare veramente non ce la posso fare io io veramente ne ho viste di partire brutte ma questa è uno schifo veramente è uno schifo 3 a 0 dines 3 a 0 dines che ora italiano mi devi dire che cosa cavolo ti ha preso ti devi dare una sveglia non puoi perdere due partite così nel giro di una settimana nel giro nemmeno di una settimana in cinque giorni ma stai scherzando e anzi 4 ma stai scherzando gioco imbarazzante non la butti dentro non la butti dentro nemmeno non sa nemmeno cosa dire è uno schifo 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 non potete indossare questa maglia avete fatto pena e ci siamo meritati di perdere perché non la butti dentro a livello di gioco fai cacare perché fai schifo fai schifo fai schifo a livello di gioco fai schifo hai tanto vip e fai 3 a 1 non si perde nemmeno nemmeno ma vai via ma vai via ma vai a vai a vai ma vai a vai a vai complimenti all'udinese noi siamo dei soliti credito hai fatto 0 gol all'udinese hai fatto un gol alla salernità ma di cosa si sta parlando è finita è finita è finito il sogno europa ragazzi è finito il sogno europa mi dispiace dirlo ma è finito è finito il sogno europa è finito tutto questa stagione buttata in eccesso per due sconfitte contro salernità in udinese dai ma di si sta parlando è una vergogna è tutto una vergogna è tutto una vergogna fate pena fate pena fate pena caglie con ancora poi posso vedere su are viraghi queste partite a volte riparte il cervello pure a lui ha peso tre volte l'uomo in barriera uno ne ha preso tre volte il primo gol pesa imbecilia il secondo gol pure il terzo non la torreta addirittura con le deviazioni fate pena fate pena ritiratevi da questa squadra fatemi un favore ritiratevi e comunque non si spiega se veramente te ne vuoi andare non vattene via vattene via pure te perché ora mi sono rotto le palle di tutto perché se c'era delle valle qui sarebbe successo il maniomi ora basta ora parla anch'io voglio parlare anch'io voglio parlare anch'io perché ora basta ragazzi ora basta parliamoci chiaro ora basta ora basta tre sconfitte di fila considerando la semifinale di coppietà con la juventus ma voi siete fuori di testa un gol fatto in tre partite ma voi siete fuori di testa ma voi siete fuori di testa ok 3 a 0 casa all'udinese 3 a 0 in casa con l'udinese vergognatevi tutti non ci siamo per nulla noi ci vediamo con la live reaction uno schifo uno schifo veramente ciao ragazzi